buongiorno questa settimana facciamo i messaggi l'oracolo angelico questi ok allora il messaggio di oggi è l'angelo dell'essenza dell'amore l'occhio il simbolo del cielo del paradiso emette raggi luminosi che raggiungono ogni angolo dell'universo il leone simboleggia il fuoco e la passione che l'amore suscitano in noi questa passione scusate si riflette ovunque nella creazione che qui è rappresentata con la luna e le stelle le ruote di fuoco alato sono il simbolo dei serafini l'angelo dell'essenza dell'amore ci aiuta a liberarci dalla maschera dell'illusione a vedere che l'amore è l'essenza della vita egli ci aiuta a liberarci dal bozzolo del nostro ego e a trasformarci nelle magnifiche creature di luce che siamo quando superiamo l'illusione della personalità e la natura distruttiva della negatività comprendiamo di essere fondamentalmente delle persone d'amore questo amore vive al centro di ogni cellula vivente del nostro corpo e al cuore di tutte le cose viventi la coscienza di cui siamo fatti anche ogni altra sostanza vivente la nostra essenza è la stessa dell'essenza universale dell'amore che ci unisce e ci lega intimamente alla fonte possiamo pregare l'angelo dell'essenza dell'amore affinché ci aiuti a riconoscere la nostra parte più profonda la nostra essenza quando scegliamo di identifica identificarci con questa essenza viviamo in accordo con il nostro sé superiore che è un aspetto del divino e smettiamo di essere guidati dal nostro piccolo ego individuale gli chiediamo di aiutarci ad affrontare l'illusione a capire che siamo una cosa sola con la fonte e con la vita tutta preghiamo di riuscire a connetterci con tale unicità e ricordare la natura eterna e incondizionata dell'amore aprendoci all'amore scopriamo che l'amore è il costituente fondamentale della vita senza di esso nulla potrebbe crescere o fiorire e la vita cesserebbe di esistere l'angelo dell'essenza dell'amore protegge questo elemento essenziale questa sostanza che è dentro ognuno di noi quando scegliamo di vivere in armonia con tale elemento riceviamo in dono esperienze che ci dimostrano come l'amore sia realmente la nostra vera essenza questa carta angelica è rappresentata dall'angelo del cielo del paradiso protegge l'essenza dell'amore i dono i doni per questa terra può aiutarvi a comprendere che la nostra che la vostra esistenza è l'amore e sperimentare l'amore in tutte le cose a condividere l'assenza del vostro essere con gli altri questo è il messaggio di oggi per l'oraco angelico vi auguro una buona giornata